ultima edizione del nostro telegiornale buonasera ben ritrovati con le informazioni di telemolisi apriamo anche questa edizione del nostro telegiornale parlando della questione dei migranti tornata in cronaca due giorni dalla manifestazione degli extracomunitari migranti davanti alla prefettura di isernia la questione accoglienza è tornata in cronaca con l'inchiesta di rete 4 che ha documentato le condizioni critiche in cui una cooperativa di isernia gestisce un centro a rocca secca in provincia di frosinone e intanto sul tavolo arriva la richiesta di chiudere ad isernia tutti i centri di accoglienza per i profughi enzo di ghietano la questione migranti giorno dopo giorno sta diventando sempre più esplosiva isernia dopo la clamorosa protesta dei profughi sotto la prefettura torna in cronaca nazionale grazie ad un'inchiesta del programma di rete 4 dalla vostra parte un giornalista della trasmissione di maurizio belpietro ha infatti realizzato un servizio a rocca secca in provincia di frosinone dove una cooperativa molisana la vacanze molise di isernia gestisce un centro d'accoglienza vediamo nei passaggi più significativi io sono la massima data in questo centro quindi se c'è qualcosa devi venire a parlare con me ma nel mio ufficio non con i ragazzi quest'uomo che si definisce la massima autorità di questo centro è un dipendente della cooperativa molise vacanze srl che ha deciso di ospitare 60 immigrati in questo ex agriturismo a rocca secca in provincia di frosinone sono fuori questo è tutto circondato e tutta proprietà privata non è scritto che è proprietà privata nessuna parte la proprietà privata la decido io qual è la mia non ho qual è la tua io non vengo a dire a casa c'è chi lo dice e chi lo dice di mettere all'interno queste persone sovrappollate all'interno delle stanze per guadagnare qualche soldo in più capisce peccato però che il sindaco una volta entrati i migranti ha ordinato a carabinieri polizia e di fare un sopralluogo in cui è emerso verificata un'eccedenza di 18 unità rispetto alle nuove camere occupate secondo l'asl gli ambienti sono privi di riscaldamento mancano i piatti doccia i bagni non sono funzionanti a noi è stato proibito di entrare nella struttura ma grazie a questo video i profughi ci descrivono la situazione insomma quasi ogni giorno la cronaca torna ad occuparsi dei migranti e che la questione stia diventando oramai ingestibile e sotto gli occhi di tutti specie in molise in particolare a isernia dove come affermato da pompilio sciulli presidente dell'anci molise c'è una percentuale di profughi del 20 per mille rispetto alla popolazione residente e a fronte di un 2 per mille a livello nazionale insomma 10 volte tanto e i segnali che qualcosa non torni sono evidenti proteste a macchia di leopardo si segnalano da ogni parte come pochi giorni fa nel condominio di venafro dove gli inquilini dalla sera alla mattina si sono ritrovati con un appartamento pieno di migranti e isernia giorno dopo giorno spuntano nuovi centri d'accoglienza rimediati alla meglio in appartamenti garage soffitte scantinati quello dei migranti è certamente un affare su cui si stanno buttando in tanti anche speculatori e persone prive di ogni scrupolo umanitario ma forse sarebbe il caso che comune asle chi di dovere faccia i dovuti controlli preventivi perché la provincia di isernia e il molise non possono trasformarsi in una sorta di riserva dove confinare i profughi grazie alla tranquillità della popolazione che subisce tutto senza protestare l'esatto contrario di quello che accade al nord dove amministrazioni comunali e cittadini si fanno rispettare e pongono precisi limiti all'accoglienza fatta solo per speculare sul punto interviene anche casa pound che parla di una situazione oramai ingestibile anche alla luce del fatto che oramai richiedenti asilo costituiscono il 2% della popolazione un numero 10 volte superiore al tetto massimo stabilito dall'accordo tra anci e ministero dell'interno la soluzione per casa pound è solo una l'immediata chiusura dei centri d'accoglienza e il rimpatio di tutti gli immigrati finora ospitati che dovessero risultare privi dei requisiti per l'asilo umanitario cambiamo argomento oggi giornata mondiale contro la violenza sulle donne tante le iniziative in regione all'arino in carcere l'istituto alberghiero ha organizzato un convegno per riflettere proprio sui casi di femminicidio e sensibilizzare così le coscienze ma sentiamo manuela iori dall'inizio del 2016 sono state 117 le donne uccise in italia un numero che secondo gli esperti è purtroppo destinato a salire fino alla fine dell'anno lo dicono le statistiche e i fatti di cronaca ma cosa si può fare per invertire la tendenza ad esempio sensibilizzare le coscienze a partire dalle scuole creando una cultura del rispetto se ne è parlato all'arino in carcere un convegno organizzato dall'istituto alberghiero nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne attraverso diversi punti di vista con gli esperti che da anni lavorano sul campo si è parlato degli stereotipi ancora troppo forti di come la donna appare sui mass media dei diversi tipi di violenza dei minori che assistono ai maltrattamenti in famiglia della legge sul femminicidio dei suoi possibili effetti di relazione uomo donna accoglienza prevenzione come cambiare costruire nuovi luoghi di incontro l'aspetto più importante secondo me da segnalare è che talvolta i condizionamenti familiari le condizioni di vita l'insieme delle situazioni relazionali economiche e quant'altro inducono sostanzialmente a non riconoscere subito immediatamente la pericolosità di una situazione a non riconoscere immediatamente il rischio al quale si è esposti ecco questa probabilmente è una cosa da evitare nel senso che non appena si ha la consapevolezza del pericolo automaticamente poi si adottano quelle cautele minimali e quelle iniziative fondamentali appunto quella di rivolgersi alle forze di polizia che consentono poi di innescare quei meccanismi che sono in grado di bloccare la situazione. Tra i relatori anche l'avvocato Antonio Maria Lascala presidente dell'associazione Penelope che mette insieme i familiari gli amici delle persone scomparse che vengono quasi sempre trovate morte che ha sottolineato come il Molise sia l'unica regione in Italia in cui l'associazione non c'è invitando i cittadini a un sussulto di coscienza. Si è parlato di violenza di genere a 360 gradi con i detenuti studenti che hanno poi messo in mostra le loro rappresentazioni culinarie proprio sul tema della violenza. Bisogna riflettere su quello che sta diventando un fenomeno sempre più vasto e sembra sempre più strano in pieno 2016 ragionare di omicidi sulle donne anche su fasce non più come potremmo pensare marginali. È un fenomeno trasversale che interessa un po' tutte le varie fasce della popolazione e quindi anche a livelli culturali abbastanza elevati. Bisogna riflettere bisognerebbe incominciare a cercare delle soluzioni su i punti su cui poter intervenire per cercare in qualche maniera di limitare questo fenomeno. A proposito di violenza sulle donne è stato identificato dagli agenti della polizia della questura di Campobasso il 22enne autore di nove tentativi di violenza sessuale avvenuti in diverse zone della città. Due di questi erano stati denunciati da altrettante vittime nelle vicinanze dell'università e proprio nel quartiere Vazzieri l'uomo era stato filmato da una videocamera da quelle immagini diffuse anche in tv e con varie testimonianze si è arrivati al responsabile che assistito dal suo avvocato Angelo Pionno ha confessato il suo impulso irrefrenabile. Il 22enne denunciato all'autorità giudiziaria sarà processato, ha manifestato la volontà di sottoporsi a cure appropriate. Cambiamo argomento. Segnali positivi dall'incontro che si è svolto a Roma al Mise sulla concessione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della GAM. Dalla regione fanno sapere che il percorso prospettato per il recupero occupazionale degli operatori della filiera a vicola è stato condiviso dai tecnici ministeriali. Questo hanno spiegato il governatore Fratture e l'assessore veneziale consentirà alla GAM di presentare istanza per un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 280 dipendenti per 12 mesi. Parliamo ora di referendum costituzionale. Incontro nella sede regionale della CGL a Campobasso in cui il sindacato ha ribadito le ragioni del no. È intervenuta Anna Fedeli della Segreteria Nazionale Federazione Lavoratori della Conoscenza. Tonino Danese. La Costituzione va applicata non cancellata, un concetto ribadito durante un incontro promosso dalla CGL nella sede regionale in cui sono state spiegate le ragioni del no alla riforma costituzionale oggetto di referendum. Nei mesi scorsi l'Assemblea Nazionale del Sindacato ha fatto passare all'unanimità un ordine del giorno da cui si evince che si invita a votare no. Ferma restando però la libertà di posizioni individuali diverse di iscritti e dirigenti essendo questioni costituzionali. L'iniziativa a Campobasso ha visto la presenza della Segretaria Nazionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL Anna Fedeli. Non era questo il modo per arrivare a un cambiamento della carta e non era questo il modo in un contesto in cui il Paese sta ancora soffrendo una profonda crisi economica a cui nessun governo compreso quellorenzi ha posto rimedio e si sta diffondendo una sorta di precarietà e di povertà diffusa di cui il Consiglio dei Ministri dimostra di non sapere niente ed è chiaro quindi che ci sono delle priorità che riguardano la condizione dei cittadini, che riguardano la condizione della scuola, io rappresento la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL, che dovrebbero venire prima di questo scontro che in qualunque modo vada non determinerà un cambiamento della condizione ma forse la aggraverà. Una riforma evidenziato Fedeli che non convince e non porta il risparmio che si vuole far credere. Non è una legge elettorale degna di un Paese democratico. Ci sarà ancora il Senato, non è vero che non ci sarà, sarà un Senato di non eletti che saranno i rappresentanti delle grandi regioni, delle aree metropolitane che ovviamente rischiano di essere rappresentanti di gruppi di potere piuttosto che dei cittadini ed è chiaro che comunque tra le due camere potrà esserci uno scontro laddove gli interessi di parte non potranno prevalere. E lo stesso Parlamento eletto con questo sistema elettorale farà sì che non ci sia una vera rappresentanza delle istanze dei cittadini, quanto una risposta a quel Consiglio dei Ministri che da questa riforma esce fortemente rafforzato perché ha la possibilità di poter accelerare l'iter delle leggi. Senz'altro i senatori verranno a battere cassa per i loro ovviamente compensi e senz'altro comunque dobbiamo pensare che quel risparmio lì non è il risparmio che salva ovviamente la legge di stabilità e la legge di bilancio, ben altri sarebbero i risparmi diffusi a tappeto che ad oggi non sono stati fatti da nessun governo non è dal governo Renzi. E per il... ...intervenuto oggi pomeriggio a Campobasso Gianfranco Fini, presidente dell'Associazione Libera Destra. L'incontro è stato organizzato da Azione Nazionale. Se vince il no al referendum non è detto che non ci saranno modifiche alla Costituzione, ha detto, ma non si può accettare questa proposta di Senato non eletto dai cittadini che non potrà in nessun modo opporsi al governo e negargli la fiducia. Oggi sono le Camere a revocare la fiducia al governo, se passa il sì avremo un governo che controlla il Parlamento senza alcuna divisione di poteri, ha detto Fini. Non è detto neanche che Renzi andrà a casa con la vittoria del no, se ha ancora la fiducia andrà avanti, ha concluso Fini. Ed ora torniamo a parlare del comune di Campobasso perché come è noto il sindaco Battista ha allargato l'aggiunta che da 7 è passata a 9. I neoassessori Maria Rubino e Francesco De Bernardo si sono presentati alla stampa. Anna Maria Di Matteo. A poche ore dalla firma dei decreti di nomina il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha presentato ufficialmente due nuovi assessori Maria Rubino e Francesco De Bernardo. Le deleghe non sono state ancora assegnate ma le indiscrezioni parlano dell'incarico alla mobilità per De Bernardo e l'edilizia scolastica per Maria Rubino. Entrambi si sono detti pronti a collaborare per il bene della città. È stata così molto molto imprevista e inaspettata ecco sì sì però poi quando è arrivato insomma ci ho pensato un po' su e mi è sembrata una bella sfida. Faccio parte di questa compagine sono contenta, onorata di farne parte e cercherò di mettere la mia esperienza al servizio della città di Campobasso da dove vivo da sempre. In qualsiasi ambito il sindaco riterrà opportuno impiegarmi io lavorerò soprattutto con molta calma e collaborando e chiedendo la collaborazione di tutti. Quindi maggioranza e minoranza si collabora. L'obiettivo è il bene della città. I prossimi due anni e mezzo saranno importantissimi per noi, saranno fondamentali. Parlare di deleghe in questo momento sarei bugiardo se dicessi che non se ne è parlato di deleghe ma dire che già c'è una determinazione in tal senso per quanto riguarda mobilità piuttosto che il centro storico, non lo posso dire francamente, sinceramente non lo posso dire. Ma l'unica cosa che posso dire è che io amo le sfide, a me piace mettermi sempre in gioco. C'è un po' di maretta di nervosismo e malcontento all'interno della maggioranza e in particolare il Partito Democratico. Io ho parlato con qualche collega. In questi due anni e mezzo siamo diventati con alcuni anche amici. I punti di vista vanno rispettati. È evidente che se un collega come Lello Bucci rappresenta una sua idea, un punto di vista diverso, va rispettato, va ascoltato. È stata riaperta la strada che collega via Mazzini al rione San Pietro, via Gioberti a Campobasso. Sono conclusi infatti i lavori al sottopasso in quest'area e tra qualche giorno verrà aggiudicata la gara per l'ultima azione del secondo lotto, sempre per il collegamento del sottopasso. Così che chi usufruisce del terminal potrà usare il tunnel sopraelevato arrivando a via Mazzini o alla stazione in tutta sicurezza. Parliamo ora a proposito di sicurezza, di sicurezza delle scuole. Un'impresa pugliese si è detta disposta a realizzare a sue spese un edificio scolastico a prova di terremoto a Isernia. Lo ha reso noto anche il consigliere comunale Enzo Di Luozzo che ha anche lanciato una proposta per l'emergenza veneziale. Sentiamo. Ci sarebbe un'azienda pugliese disposta a realizzare a Isernia una scuola sicura, lo ha annunciato il consigliere comunale di minoranza Enzo Di Luozzo. La manifestazione di interesse è stata depositata in municipio e ora toccherà all'amministrazione valutare la proposta per investire a Isernia 2 milioni e 800 mila euro, somma necessaria secondo quando espresso dal comune per un plesso scolastico a prova di terremoto. L'azienda è disposta ad anticipare questa somma che dovrà essere restituita nei tempi e con condizioni da pattuire, qualora il sindaco e la giunta siano interessati e ritengano il progetto fattibile. Qual è l'interesse di questa impresa a realizzare una scuola a Isernia Di Luozzo? È l'interesse di realizzare una scuola a Isernia dove anticipa ovviamente questa somma che dovrà essere restituita nei tempi e nelle condizioni che andrà a pattuire, qualora il sindaco e la giunta dovesse renderle utili e necessarie e soprattutto fattibili in un determinato periodo. Enzo Di Luozzo ha anche affrontato un'altra emergenza, quella dell'ospedale veneziale. Il consigliere di minoranza ha comunicato di aver organizzato un incontro con il governatore Frattura per il prossimo 12 dicembre a Isernia in modo da discutere con lui e con tutti i capigruppo delle prospettive dell'ospedale di Isernia prima che l'atto aziendale venga definitivamente approvato. In sostanza Enzo Di Luozzo dice prima che sia troppo tardi parliamo con Frattura e chiediamogli di garantire la sopravvivenza dei servizi essenziali per il nostro ospedale. Noi avevamo fatto come opposizione una richiesta in tal senso al nostro sindaco, credo dal 24 ottobre se non ricordo male. Ad oggi la richiesta di incontrare Frattura non c'è stata e questa richiesta era perché il piano aziendale doveva essere, come ricorderete, nel consiglio comunale, doveva essere fatto in modo imminente, di lì a qualche giorno. È passato quasi un mese, il piano ancora non è stato fatto, ma questo ne eravamo certi perché un piano aziendale non si fa in due giorni e quindi abbiamo chiesto, ho chiesto personalmente a Frattura, visto che il sindaco al momento non si è mosso, almeno queste sono le mie informazioni, ho chiesto personalmente a Frattura di incontrarci. Il 12 dicembre alle 11 dovremo vederci se il sindaco lo vorrà e ovviamente anche il Presidente del Consiglio, con tutti i capogruppi di opposizione e di maggioranza. Senza dubbio le intenzioni di Enzo Di Lozzo sono buone, ma alla luce di quanto accaduto a Venafro per il Santissimo Rosario, la domanda che sorge spontanea è, ci si può fidare di Frattura e di un suo impegno e una sua firma sotto un documento? A breve sarà possibile iscriversi al Master di primo livello in gestione dell'emergenza e post-emergenza promosso dall'Università del Molise e dall'Ufficio Scolastico Regionale. L'opportunità di formazione universitaria è rivolta a docenti di ogni ordine e grado, a personale sanitario, volontari di associazioni, di assistenza e soccorso, personali di enti di amministrazioni e a chiunque ricopra ruoli e incarichi a stretto contatto con le comunità locali. Il percorso prevede 1.500 ore di formazione per un totale di 60 crediti universitari e punta a formare figure di riferimento per le comunità in caso di calamità o emergenze territoriali e sociali. E restiamo in tema, il tema della sicurezza e degli edifici scolastici è stato al centro dell'incontro promosso da Cittadinanza Attiva a Campobasso. Tra i relatori Vincenzo Sepe, ricercatore dell'INGV di Roma, Anna Maria Di Matteo lo ha intervistato. In occasione della giornata nazionale della sicurezza delle scuole, a Campobasso Cittadinanza Attiva ha organizzato un incontro per focalizzare l'attenzione in particolare sulla situazione del Molise, un quadro preoccupante in particolare a Campobasso dove nell'ultimo anno sono stati chiusi ben quattro edifici scolastici. Situazione sulla quale riflettere per programmare interventi mirati sulle strutture che possono essere adeguate dal punto di vista sismico o nei casi più gravi abbattere per poi ricostruire. Tra i relatori Vincenzo Sepe, ricercatore dell'INGV di Roma. Il terremoto è una rottura all'interno del terreno, quindi alla fine abbiamo una frattura generalmente preesistente, che viene definita come faglia e abbiamo un movimento relativo delle due parti. Una generalmente rimane fissa, come per esempio la sommità del monte Vettore, come nel caso del terremoto da matrice, e la parte a ovest che si è mossa ribassandosi di quasi 70 centimetri. Il Molise è un territorio molto particolare, nel senso che va dalla parte del Matese, quindi borda il Matese sulla zona nord-est, con tutto il bacio di Boiano ed è composto da materiali terrigeni che sono scadenti come qualità e che possono generare non solo terremoti, ma anche frane o altri dissesti. In più ci vogliamo mettere anche i fiumi che attraversano il Molise, quindi abbiamo un territorio che va comunque tenuto sotto monitoraggio e cercare di capire quali sono le debolezze in quella parte anziché un'altra e cercare di ottimizzare gli interventi, non andare a tappeto a fare chissà che cosa, ma lì dove c'è un viadotto, lì dove c'è una galleria, lì dove c'è un dissesto in prossimità, è sempre il caso di tenere sotto monitoraggio. Quindi io starei in campana, guarderei soprattutto queste cose proprio alla luce anche di quello che ho visto da matrice, ho visto delle gallerie spaccate in due, gallerie che generalmente per me sono dei bunker e mai mi sarei sognato che ci potesse essere una cosa di questo tipo. Questo non per creare allarmismo, l'allarmismo in questi casi non serve a nulla, serve semplicemente essere ragionevoli e costruire e strutturare tutti i manufatti nel mio dei modi, conoscendo il territorio però, quindi la conoscenza del territorio prima di tutto. Continuiamo a parlare di scuole ma per altri motivi, gli studenti dell'Istituto Superiore Cuoco Manuppella di Serna hanno avviato il progetto dal titolo La Paura, una risorsa per l'essere, e ne hanno discusso con il neurologo Rosario Sorrentino. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Dare agli adolescenti gli strumenti per superare paure e disagi provocati da bullismo, ansia e situazioni di rischio tipiche di questa fascia d'età. Con questo obiettivo il Cuoco Manuppella di Serna ha attivato il progetto dal titolo La Paura, una risorsa per l'essere. I ragazzi, dopo aver dato le prime risposte attraverso varie forme d'arte, hanno affrontato di petto la questione con il neurologo Rosario Sorrentino. Il coraggio non è la mancanza della paura, ma è la consapevolezza di essa. I grandi uomini, i veri eroi, hanno avuto paura, non l'hanno legata, negata, l'hanno utilizzata perché ha conferito loro una maggiore lucidità, un maggiore senso di responsabilità nei confronti dei singoli e nei confronti della collettività. Quindi usare la paura, cambiare il nostro rapporto con essa perché può offrirci un supporto biologico importante per aiutare tutti, nessuno escluso, ad affrontare le mille insidie che ci aspettano. Durante l'incontro di scena alla sala convegni della provincia di Serna sono stati affrontati anche argomenti di stretta attualità, come ad esempio l'impatto del terremoto sulle nostre emozioni. Anche in questo caso la paura può essere affrontata. Bisogna allenare il nostro cervello, bisogna andare e allearci paradossalmente con la paura, con essa, cambiare appunto il nostro rapporto perché il cervello ha in sé tutte le qualità, le componenti biologiche e ci consente di interagire con questa emozione primaria che se viene canalizzata in maniera adeguata può darci delle risposte utili e sicuramente aiutarci a vivere meglio. La dirigenza scolastica dell'Istituto Coco Manuppella crede molto in questo progetto che si propone di mettere in luce modelli basati non sulla competizione più sfrenata, bensì sulla passione, la volontà e la consapevolezza, visti quali ingredienti fondamentali per raggiungere e realizzare le ambizioni e desideri dei giovani d'oggi. Abbiamo pensato di intervenire sulla gestione delle emozioni. I ragazzi devono poter governare le loro emozioni e questo non soltanto e non solo perché abbiamo, come dire, un obiettivo di socializzazione ma perché senza emozioni non si ha né aumento di intelligenza né aumento di apprendimento. Non c'è apprendimento senza gratificazione emotiva. Questo è il senso del nostro discorso. L'appuntamento che noi ci diamo è per fine anno scolastico quando i ragazzi mostreranno di essere in grado di, come dire, di dominare le emozioni. Sono state circa 200 le aziende italiane che hanno esposto i loro prodotti dal Bella Vita Food & Wine Trade Show che si è tenuto ad Amsterdam. Grandi nomi hanno partecipato all'evento, diverse anche le aziende molisane che hanno presentato le loro peculiarità e hanno promosso il territorio. Tra le aziende premiate anche il caseificio molisano-sassano che ha ricevuto due stelle attribuite alla burrata che ha riscosso un notevole successo. E parliamo di funghi e tartufi. Anche questa è una delle nostre eccellenze nel settore della gastronomia e dei prodotti tipici, un settore su cui punta anche la Coldiretti. Valentina Nero. Stagione avara a causa del clima per la raccolta di funghi e tartufi è quanto emerge da un'analisi della Coldiretti presentata in occasione della giornata del ringraziamento dopo l'11 novembre che chiude tradizionalmente il bilancio dell'annata agraria che è stata sconvolta da un andamento climatico anomalo con pesanti effetti sui prodotti tipici autunnali e sulla spesa degli italiani. Raccolto improduttivo per gli appassionati di porcini, finferli, trombette, chiodini e le altre numerose specialità che nascono negli oltre 10 milioni di ettari di bosco che riferisce la Coldiretti coprono un terzo del territorio nazionale. Mentre i prezzi del tartufo hanno raggiunto i 350 euro a letto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale. Il pregiato, il tuber, magnatum, pico si sviluppa in terreni che devono restare freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione. Nonostante questo però, dicono ancora dalla Coldiretti, sono numerosi i territori che continuano ad essere battuti dai ricercatori. Dalla Piemonte alle Marche, dalla Toscana all'Umbria, dall'Abruzzo al Molise, ma anche nel Lazio e in Calabria. La ricerca dei tartufi praticata già dai sumeri svolge una funzione economica a sostegno delle aree interne boschive, dove rappresenta una importante integrazione di reddito per le comunità locali, con effetti positivi sugli afflussi turistici, come dimostrano le numerose occasioni di festeggiamento organizzate in suo onore in questo periodo. Il tartufo molisano cresce in grande quantità sulle montagne, ma anche in collina sopra i 500 metri con la varietà dello scorzone, fino al mare, dove invece è facile reperire il bianchetto. Come accrescere l'autostima è il tema di un seminario tecnico pratico che si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle 17.30 presso la Domus area di Bagnoli del Trigno. La psicoterapeuta Carla Ciamarra parlerà di strategie, tecniche e metodi per rafforzare il proprio potenziale. Il seminario gratuito è a posti limitati, quindi serve la prenotazione. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. E qui concludiamo anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A tutti voi una cordiale buonanotte.